Nel corso Vittorio riemerge ancora la storia di Cagliari. Durante dei lavori per la sostituzione di alcuni tubi d'acqua all'angolo tra il corso e la via Maddalena è stato trovato un pezzo del passato, quello che sembrerebbe essere dai primissimi accertamenti una cisterna ovviamente del passato, l'epoca deve essere ancora datata. Una enetima scoperta quindi nel sottosuolo di una città a Cagliari e di una zona quella del corso Vittorio che continua nei fatti a regalare sorprese in azione oltre agli operai anche gli archeologi comunali e comunque aspetterà poi la soprintendenza dover dare una definizione e dover soprattutto capire, datare quella che è nei fatti l'ennesima scoperta archeologica nel sottosuolo cagliaritano e lo ripetiamo in particolar modo nell'area del corso Vittorio Emanuele. Molti cagliaritani curiosi che nel corso della mattinata si sono avvicinati per buttare un occhio.